Agire strategicamente richiede innanzitutto conoscenza e chiarezza sulla posizione in cui ci si trova, rispetto alle sfide da affrontare, sulla natura del problema e sul dove si vuole andare. Mancando tale condizione e chiarezza il risultato è in genere di due tipi, o non si agisce oppure quando si agisce lo si fa in maniera non efficace, quindi si mettono in campo soluzioni che alleviano temporaneamente i sintomi senza metter mano alle cause dei problemi, che nel frattempo si aggravano sempre di più. Le competenze necessarie per definire la destinazione desiderata e le modalità per avanzare verso di essa possono essere rapidamente acquisite se si fa uso della metodologia Target Navigator.